E se la nostra bella tv vi è sembrata un bello tipezzo, aspettate di vedere chi sta per entrare. E nel frattempo vi ricordo, qualora qualcuno l'ha accusato inciantamente di essere un ammanto uomo, quello che la risponde sempre. Io non sono per viva, è quello che sembra così. Sì, c'è un ammanto uomo, Grazie a tutti. Sono artiste molto diverse tra loro, ma hanno in comune voci straordinarie, grandi voci interpretative e successo da vettori. Solo per voi, in esclusiva, una dopo l'altra, avvierete. Candy Langlox! Grazie. Shakira! Grazie. 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 I say the way that you made it to me I got my style Grazie a tutti Grazie a tutti Oh, di nuovo tutto nel passato I indimenticabili, interromontabili Anni settanta Oh, di nuovo tutto nel passato 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 E ora torniamo alla vita di tutti i giorni Alla vita vera E arrivano le donne vere Le donne di Silvana Oh, di nuovo Oh, di nuovo tutto nel passato 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.